Il trono di Ida Platano a uomini e donne e agli sgoccioli e nella puntata del 9 maggio è esploso il tanto atteso scandalo legato al corteggiatore Mario. Mario è stato accusato di una scappatella in un bnb con un'altra ragazza, confermata dalla stessa interessata. Dopo una serie di segnalazioni Mario ha finalmente confessato durante la puntata di oggi scatenando l'ira di Ida Platano. Lei lo ha accusato duramente di aver mentito e manipolato cacciandolo dallo studio. Ida Platano è apparsa furiosa e delusa dal comportamento di Mario definendolo un uomo poco serio e manipolatore. Questo evento segna una svolta nel trono di Ida che si avvia verso la sua conclusione con un grande scandalo. Restiamo in attesa per vedere come evolverà la situazione nei prossimi giorni.